Valigia blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. Valigia blu cerca di creare senso dove c'è il rumore, a partire dai fatti. Il giornalismo è conversazione, confronto continuo con i lettori, è importante quindi garantire un ambiente sicuro per tutti. Ecco perché la moderazione è fondamentale, sia al confronto, no agli attacchi personali. La nostra è una forma di attivismo digitale, non ci interessa la pubblicità, non ci interessa inseguire il traffico online, diciamo no alla velocità, al clickbait, al sensazionalismo, diciamo sì ai contenuti di qualità e agli approfondimenti. Valigia blu è sostenuta interamente dai lettori. Partecipa al crowdfunding per sostenere l'edizione 2020 di Valigia blu. Anche una piccola donazione fa la differenza.